Ivan Sazzaroni ha raccontato al Corriere dello Sport il suo punto di vista sulla sorte di Romelu Lukaku, sottolineando in particolare la possibilità del suo approdo al Napoli. Sazzaroni ha sottolineato la giovinezza di Manna e la necessità di valutare se sarà in grado di reggere la pressione imposta da De Laurentiis. Secondo lui sarebbe una preziosa occasione per il giocatore di crescere e imparare. Sazzaroni si è espresso sulla possibilità che Lukaku si trasferisca al Napoli, precisando che l'arrivo al club di allenatore Antonio conte rendere mota al momento tale possibilità. Ha riconosciuto il ruolo di Manna nel tentativo di portare Lukaku al club durante l'estate, sottolineando la voglia di vincere del giocatore belga. Sazzaroni ha però ritenuto prematuro parlare del futuro della squadra di Lukaku, sottolineando l'ottimo rapporto che c'è tra Manna e il giocatore. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità Inter. Affrontando le speculazioni sul destino di Lukaku, Sazzaroni ha suggerito che l'interesse del Napoli per la stella belga è qualcosa da considerare, ma non necessariamente una certezza. Ha detto che il rapporto tra Manna, uno dei rappresentanti di Lukaku, e il giocatore stesso è stato positivo, il che potrebbe influenzare un possibile trasferimento. Sazzaroni ha anche indicato che la decisione finale sul futuro di Lukaku dipenderà da diversi fattori, tra cui i desideri del giocatore, le trattative tra i club e altri elementi del mercato. Continua la discussione sul possibile destino di Lukaku, con Sazzaroni che riflette sulle implicazioni del passaggio al Napoli in termini di ambizioni sportive e di adattamento del giocatore allo stile di gioco e all'ambiente del club. Ha sottolineato l'importanza che Lukaku scelga una destinazione che gli consenta di continuare a progredire nella sua carriera e raggiungere i suoi obiettivi personali e professionali. Sazzaroni ha analizzato anche le dinamiche tra Lukaku, i suoi rappresentanti e i dirigenti del Napoli, suggerendo che la decisione finale sarà influenzata da una serie di fattori, tra cui aspetti finanziari, competitivi ed emotivi. Ha sottolineato la necessità che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le parti. Concludendo il suo intervento, Sazzaroni ha lasciato aperta la questione sul futuro di Lukaku, sottolineando la complessità del processo di trasferimento e l'imprevedibilità del mercato del calcio. Ha invitato i tifosi dell'Inter a riflettere sulle possibilità e a condividere le loro opinioni in merito. Adesso vorrei sentire la vostra opinione sulle prospettive di Romelu Lukaku nell'ambito di un possibile trasferimento al Napoli. Cosa ne pensate delle informazioni condivise da Ivan Sazzaroni? Commenta qui sotto e metti mi piace al video per ricevere le prossime novità dall'Inter.